L'ha riconosciuto? Lui è l'attore che stava con te. Facciamolo aprire. E voilà il mandante! Terzo! Amore, ti posso spiegare? Non è vero, lui è il mandante. Ti posso spiegare? Lui è lui. Fa tu che la partita di... No! Fa tu che la partita di... Fa tu che la partita di... Eri lì a fare... A calcio? Amore! Sì, amore! 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 Ma che cosa ci fai lui qua? È stato il mandante. Perché tu stavi con Matteo e lui stava a calcio, diciamo. No, giusto, invece stava con noi. Stava con noi. Io sono stato due secondi e stavo morendo. Non so come hai fatto, sono amore. Ma che buono!